La vivi in attesa, la vivi aspettando che vengano date delle risposte migliori e che si risolva nel miglior modo possibile. Dovrà ancora attendere per conoscere il suo destino, ovviamente processuale, fra Edi Pacini, il aggommista di Monte San Savino, che nella notte del 28 novembre 2018 sparò uccidendolo al ladro che si era introdotto nella sua officina di via della Costituzione, dove da anni dormiva esasperato dai furti subiti. Il GIP Fabio Lombardo si è infatti riservato di decidere sull'archiviazione. Si aspetta per risolvere il tutto nel migliore dei modi, non guardo il tempo. È la seconda volta che l'imprenditore si trova di fronte al giudice. Lo scorso novembre infatti il procuratore Roberto Rossi aveva chiesto l'archiviazione, come in precedenza già fatto dal PM Andrea Claudiani, sostenendo la tesi della legittima difesa putativa, richiesta che non fu accolta dal GIP che ordinò un supplemento di indagini per chiarire alcuni aspetti ritenuti salienti. Gli accertamenti sono stati portati a termine e di fatto non hanno modificato l'impianto della procura. La tesi resta quella che Pacini si sarebbe sentito in pericolo di vita, anche se effettivamente non lo era. Diciamo che queste indagini che il signor Pacini non ha mai interpretato come un rigetto dell'archiviazione dal punto di vista negativo, ma semplicemente per cercare di verificare ulteriormente quella che era la sua versione, confermano che il Pacini ha detto la verità dall'inizio alla fine di questa vicenda. Intanto la sorella del ladro ucciso ha deciso di uscire dal processo nel quale era parte offesa. Adesso la decisione spetterà al giudice archiviare oppure ordinare l'imputazione coatta di Pacini. Siamo fiduciosi come lo siamo sempre stati.